Siena e Grigia Lo spopolamento dei rioni I negozi sono tutti morti a Siena Casa E il patio E il cuore Il piazza del campo e il piazza del campo La storia Tradizione Università Mangiare da Dio Appartenenza e identità Siena deve essere rilanciata Deve vivere il suo risorgimento Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori